Iniziano per tornare la partita, i due falli da rigore come li hai visti dal campo? Probabilmente in serie a tutte e due non ve li avrebbero dati. Come faccio a rispondere a una cosa del genere? Siamo seri. Una ha preso la palla di mano così mentre stavo... Come fai a dire in serie? Forse con la Juve di Calciopoli. Come fai a non dare... Come fate a dire le cose così dai? Siamo seri. E c'è, è saltata una palla, a chi stavo colpendo di testa dal discreto di rigore a botta sicura, poi magari lo sbagliavo, e ha preso con la mano così e come fai a dire che non è rigore? Dai, cavolo, facciamo... Non perché? Dobbiamo sempre creare polemiche anche quando non c'è insomma. C***o, dai. Passate la voglia veramente di parlare. Scusate.